Bollino rosso per il caldo in questi giorni. Oltre alla preoccupazione per la salute c'è un rischio fortissimo di incendio. Il piano antincendi Boschivi 2024 è già operativo. All'Aquila è attiva la sala operativa unificata presso l'Agenzia regionale di protezione civile. Lo scopo è monitorare la situazione e intervenire prontamente con uomini e mezzi secondo le necessità. Con l'inizio della campagna anche i carabinieri forestali sono operativi per prevenire incendi che in molti casi sono dolosi. Il piano di protezione civile è imponente. 39 associazioni di volontariato in campo convenzionate con la protezione civile. 1.500 operatori e personale specializzato nello spegnimento degli incendi. 96 mezzi della protezione civile e 70 delle associazioni. Un sistema complesso che si avvale anche dei vigili del fuoco e dei militari del nono reggimento alpini. Bollino rosso in questi giorni c'è qualche situazione particolare di incendi che vi sta preoccupando innanzitutto? In questo momento no. Ovviamente l'attenzione è molto alta perché le temperature sono molto alte. Il nostro dispositivo antincendio boschivo come vedete già è pronto. Qui siamo nella SOP, una sala operativa unificata permanente dove ci sono insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri forestali, i nostri volontari e i funzionari regionali gestiamo eventuali situazioni di crisi. Abbiamo avuto qualche incendio di importanza abbastanza elevata nei giorni scorsi, però in questo momento tutto è tranquillo. Ovviamente l'attenzione deve rimanere massima. facciamo appello ai cittadini affinché segnalino in maniera rapidissima qualsiasi tipo di incendio al numero unico 112 e poi ovviamente chi poi penserà a smistarlo ai vigili del fuoco e alla nostra sala operativa. Anche quest'anno però c'è una macchina operativa molto importante fatta di uomini e mezzi grazie alle convenzioni che fate. Insomma, siete ben organizzati? Beh sì, siamo sempre meglio organizzati. Già abbiamo consegnato qualche giorno fa 20 nuovi mezzi alle aree interne proprio per l'antincendio boschivo. Entro pochi giorni ne consegneremo altri 16 per le nostre organizzazioni di volontariato. e quindi stiamo anche attivando un programma di rinnovamento della colonna mobile regionale anche in funzione degli incendi boschivi ovviamente.